Come è avvenuto quando hai sostituito Jack Parr, quando Jack Parr siamo l'ho fu la tua grande occasione e fu quella notte che io decisi che sarei divenuto un comico. Venni fuori da quel tuo show come in un sogno, sai? Poi ho seguito tutte le tue partecipazioni allo show di Sullivan. Ho studiato tutto ciò che hai fatto, ho studiato come costruisci la battuta, con calma, rilassato, come dici le cose spiritose senza mai appoggiare troppo e come non dici mai ora gente viene la battuta. Capisci? Capisci Jerry di che cosa sto parlando? Sì, non dico mai ora gente viene la battuta, la dico e basta. Esatto, è proprio questo quello che mi piace di te.